Immediata autosospensione dal Partito Democratico fin quando il Governo nazionale non prenderà decisioni immediate e concrete sulla vertenza Gela. I consiglieri comunali del PD fanno sul serio e ieri sera durante i lavori della Sise Civica hanno manifestato il loro malcontento nei confronti del Premier Renzi e come dicevamo si sono autosospesi. Non siamo assolutamente soddisfatti della missione che abbiamo fatto a Roma perché per tre mesi di cassa integrazione non andavamo a perdere due giorni. C'è stato un gesto con il quale vogliamo porre all'attenzione del Partito, in particolar modo del Vice Secretario nazionale onorevole Lorenzo Quirini, il disagio dei lavoratori e di un'intera comunità. Ma come potrebbe intervenire il Premier Matteo Renzi per risolvere definitivamente quella che ormai è stata definita una vera e propria emergenza riconducibile alla vertenza Gela? Io sono convinto che Gela è un caso straordinario e bisogna intervenire con gli stessi strumenti legislativi che sono stati adottati per Bagnoli e per Tarondo. È una legge ad hoc, una legge speciale, provvedimenti straordinari per dare rispiro ad un territorio che sta soffrendo veramente una crisi economica senza precedenti. E il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha chiesto all'amministrazione di interrompere gli incontri istituzionali per rimarcare ancora di più il livello della protesta. Non ci possono essere trattative se sul tavolo non ci sono chiari progetti di bonifica e risanamento dell'aria di Gela. Il futuro industriale di questa città, dicono i grillini, passa dalla capacità di attrarre investimenti che possono cambiare l'economia della città. Nessuna azienda deciderà di scommettere su un sito inquinato senza che prima vi siano state le dovute attività di risanamento. Nessuno investirà i propri soldi per risanare danni altrui. Per questo motivo la politica e tutta la città devono pretendere che partano le attività di risanamento per poter avere lavoro futuro e a lungo termine. Non può essere accettata la politica di Enia e del protocollo d'intesa. Oltre 2 miliardi presunti di investimento su Gela, di cui 1 miliardo e 8 solo per le trivelazioni a mare. Eni lascia solo 400 mila euro per bonifiche e raffinerie verde, non prevede un progetto di riconversione a lungo termine e forse promette qualche posto di lavoro per pochi mesi. Il gruppo consigliare chiede inoltre all'amministrazione di non accettare questa strategia industriale. Chiede di pretendere che si metta in campo una vera politica di riconversione che permetta alla città di crescere nel futuro e di attrarre investimenti. L'accordo di programma può diventare questo strumento e per questo motivo va condiviso e sviluppato sul territorio. A Eni diciamo, chiude la nota, che se vuole investire su Gela lo faccia destinando integralmente i 2 miliardi e 200 milioni di euro sulle attività di bonifica e risanamento. Questo potrebbe essere un vero inizio per il cambiamento.